Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni ha partecipato di recente al matrimonio della sua grande amica Veronica Ferraro, dimostrando quanto il legame tra le due sia rimasto forte nel corso degli anni. Durante la cerimonia, Chiara ha tenuto un discorso commovente dedicato alla coppia sposa, sottolineando l'importanza dell'amicizia e dei momenti condivisi con Veronica. Ha evidenziato il ruolo fondamentale che l'amica ha avuto durante i momenti difficili, offrendo il suo sostegno incondizionato. Inoltre, durante il discorso, Chiara ha fatto una piccola frecciatina al suo ex marito, ricordando un momento significativo trascorso insieme a Veronica durante un periodo buio della sua vita. Ha sottolineato l'importanza di come le persone ci fanno sentire anche a distanza di tempo, e ha elogiato Veronica per essere stata un punto di riferimento durante quei momenti complicati. La pubblicazione delle foto del matrimonio e dei commenti suscitati ha evidenziato un crescente sostegno e affetto nei confronti di Chiara Ferragni da parte del pubblico. Mentre la sua popolarità sembra risalire, il suo ex marito Fedez sembra attraversare un periodo difficile, con canzoni che parlano della loro rottura e una serie di imbarazzi pubblici. In conclusione, Chiara Ferragni sembra aver trovato la sua strada, senza dipendere finanziariamente da Fedez e con la possibilità di una nuova relazione amorosa. Al contrario, Fedez sembra ancora alle prese con la rottura e con una serie di problemi personali. Resta da vedere se riuscirà a riprendersi.